WOOOOO Ragazzi buon god day e bentornati Lassù saranno incredibile, pazzesca e assurda oserei dire Questo è il primo video che registro in assoluto dopo Pasqua e Pasquetta Classica Pasqua e Pasquetta standard proprio Tra l'altro la settimana prima di Pasqua sul canale sono usciuti ben 6 video su 7 giorni Cioè record assoluto, ne vado fiero perché è una cosa che non sarei mai riuscita a fare fino a qualche tempo fa Ora i video li ho finiti, devo ricominciare a registrare parecchi Poi magari ogni tanto qualche settimana di full video ve la faccio proprio tranquillo Adesso già ho fatto tutta la schedule per le prime 3 settimane di aprile Quindi insomma video interessanti usciranno Spero di riuscire a registrare anche insomma format cose SUS Questo arco narrativo come vi dicevo si sperimenta parecchio SUS è qui e giustamente mi sta ricordando che dovevamo iniziare l'esplorazione a Liurnia Vi avevo detto che avrei esplorato questa parte off camera Ovviamente non ci ho avuto tempo sotto le festività di Pasqua Lo farò prossimamente Qui al castello di Grande Pesta abbiamo fatto tutto Sì dobbiamo andare avanti a Liurnia All'inizio della lana avevo paura di livellare troppo con SUS Però vi ricordo che in tutto questo non abbiamo sempre l'anello di rata che ci fa prendere pizza Ve lo dico Un giorno ce lo arriveremo quando faremo un bel po' di livelli SUS Avevo paura di salire troppo di livelli Invece no, finirà che sono pure sottolivellato per l'area Prendiamo l'uva di sciapiti L'uivorello l'abbiamo perso Abbiamo preso la nostra uvetta Un attimo un vuoto Non mi ricordo l'MPC La ragazza che mangiava quella roba lì Allora qui parliamo con il nostro mago depresso Qui prendiamo cose La prima saga è incredibile Nooo che dolcezza è Per 10 rune è un affare Tops Che storia triste di questo uomo Guai Lucaria Eh già E' certo che te la portiamo Va bene Poi porteremo anche la chiave al nostro amico Tops Incredibile Tra l'altro ragazzi vi faccio vedere coincidenza Che Tops ha la pelata come SUS E infatti penso potrebbero andare molto d'accordo Allora che dite Facciamo questo accampamento SUS Tanto per fare qualcosa L'accampamento SUS Pronti? Woo Meno male che gli shot ancora Questo tizio è quello sui del gruppo Che portano sempre alle feste Eccoci qua Non credo Guarda quanto è bello il goto che piove Beh ragazzi La grazia e il goto vanno d'accordo Con questo mercante Vedeva qualcosa di SUS Io sai che mi comprei questa Oh finalmente Questa è una comodità SUS Allora Andiamo a prendere subito la mappa va La mappa SUS Che poi nel DLC Sembra proprio che affronteremo un'area simile a questa Ecco Quali sono in assoluto i nemici più forti del Dering? La ravosta e l'orso Suono tantissima roba Infatti eviteremo di colpirle proprio Non ho assolutamente voglia di affrontarle No no Quello a fare non ci penso neanche Questo che faceva? Potremmo andare anche da runni Potremmo fare un sacco di cose Ah Vedi? Ah ok Questo mi portava proprio qui davanti Però giustamente senza chiave Non possiamo entrare Vabbè intanto ci avremo Mappa di ritrovo Hai trovato una mappa Adesso mi dirà che devo andare a ammazzare il dragone ovviamente Adesso andiamo a prendere anche l'altro pezzo di mappa Ora che sto guardando quest'area che gli somiglia veramente tanto Avete sentito parlare di quel leak del futuro gioco della From Quindi dopo Elder Ring Che dovrebbe essere un gioco basato sulla magia? Non mi ricordo come si chiama Ve lo metto in editing Il nome di questo gioco Perché ne ho sentito parlare di alcuni youtuber che seguo Che nominano spesso sto gioco Ora si sa ben poco Giusto qualche leak Qualche dataminder Queste cose così E questa zona qui di Liurnia Sembra esattamente una zona base Di questo possibile gioco Dovrebbe essere tipo Sekiro Però è un Sekiro in cui tu puoi usare solo la magia È una cosa susse Quando dico Sekiro intendo che Il personaggio è quello mi pare Non credo tu possa creato un personaggio E poi praticamente si basa solo sulla magia Quindi che ci sono tante scuole di magia Ma tutto gira attorno alla magia Ditemi se ne avete sentito parlare Perché non è che ne parlano tanti Quindi non so se è proprio una cosa super fake Oppure veramente il prossimo gioco della From Sarà quello no? Molto bene Ci sono un sacco di cose da fare Allora sicuramente uccideremo il dragone in questo episodio Allora io direi di andare a parlare anche con Val Re Perché non mi ricordo sinceramente La missione di Val Re Certo se riuscissimo a sbloccare il farming di Mog L'abbiamo svoltato eh La missione di Val Re La prima volta non l'ho fatta Perché giustamente dovevo invadere Poi successivamente feci le invasioni Quando iniziai a fare PvP incredibile E feci la missione di Val Re Però poi mi inserono questo aggiornamento Che ti diceva che tu la potevi fare anche PvE Quindi mi chiede Dobbiamo ammazzare gente? Come funziona? Mi sta facendo tutto Ma sembra che non ho mai fatto la missione di Val Re Senza poter invadere E un po' Era uno splendore Era qualcosa di strano Non so se cambia qualche cosa Vabbè diciamoli che avevano qualcosa di stata Eccoli qua Però vedi Lui mi ha ridato questi Non mi ha detto Vai lì e ammazza un tizio Allora qui tra l'altro Veniva fuori un tizio fortissimo Che dite lo vorrei ammazzare Justizia ha un moveset fichissimo Un piccolo mog Allora Abbiamo fatto pure questo Patches mi pare che è una di queste altre isolette Sus Nel prossimo episodio mi sa che faremo Tutta la parte di Ranni Uccideremo lo spirito incredibile del Cavaliere Che poi incontriamo Per andare da Maregna Di cui non mi ricordo assolutamente il nome Quindi parleremo con Ranni Sus Andiamo a recuperare pure l'altro pezzetto di mappa Che se non sbaglio Era proprio vicino Ranni Questa mi sa che era la torre Con l'enigma Quello incredibile Eh no mi sa che era questa Che scende la scala solamente Se facciamo vedere Il simbolo Con l'elmo giusto Spero ci siano segreti Nel del si così spicy Ah lui la possiamo uccidere però Assolutamente Guarda che bella Raiarugaria Questa zona è incredibile Inizieremo subito Con una palla di fuoco Pazzesca E assurda Baffettino Oh yes Opla Tanto questi non avevano il buff set Dei cosi di Dark Souls 1 Quindi se gli vado indietro Fanno un saltino Non me lo ricordo No No E si va di torrent Mamma mia il danno Mi ha beccato proprio bene A sto giro Beutina Non credo proprio Opla Beutina Prima mi ha preso Perché non mi ricordavo C'era l'esplosione La potenza di sospiro Le creature terribili Loro dovrebbero Troppare l'elmo Io non ho mai Troppato assolutamente L'elmo di queste cose Però solamente alcuni Troppano l'elmo Non tutti Poi c'erano le rovie E poi c'era Se non sbaglio La mappa Dov'è 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 andare così Puliamo questo accampamento Incredibile No Il cane Ho visto il cane Ah però Ragazzo mio Noi siamo Questi meglio di te Non è vero Mai la vita Non ci arriviamo Va bene Facciamo provare Ah qui c'è il nostro Amico Testone Ha una lancia Testone No Fratello Qui c'è un simpaticone Che è proprio Ha voglia di giocare Con noi Questo Mamma mia Quanto sei dura Complimenti signore Lei è Molto forte Mi dico Dalla regia Che errore Ora Mamma mia No 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 Ok Perfetto Il cane Non me lo ricordavo Ah giustamente C'è anche testone Non so se lui soffre il fuoco Lo sai E' stato un tentativo Veramente spiegato Ecco Sto cominciando a notare Che l'anello di Radagon Come dire Comincia a farsi sentire Poco poco Capito Ok Vi ho regalato Dei combattimenti Di susse incredibili Che mi ricorderete Per i prossimi 2000 anni Allora Ovviamente faremo La carovana Perché mi sembra Il minimo Che fai Te ne previ Di non fare La carovana Susse Tanto quanta gente C'è qui Mamma mia Ah Giustamente Non mi ricordavo Questa cosa susse Ma buongiorno Secondo me Quanto mi farà male La parola di fuoco Secondo me non niente Vabbè Andiamo No No Oh Come ce la vogliamo gestire Questa Di violenza O di Skip totale Allora io ce l'avrei un'idea Però non so quanto Può saltar bene Ah giusto Questi sono tutti quanti Questi che fanno Questi trucchi susse No Questa è stata Una brutta idea Fratello È stata proprio Una brutta 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 Siamo Siamo addestrati Anche a questo Ora tu Via Morite tutti Via Via Ok Perfetto Visto ragazzi Fantastico E ne valsa Veramente la venta Voi direte Perché hai fatto tutto questo Per una spada Che come dire Neanche userai mai Probabilmente Per la gloria Del vostro susse Ovviamente Per farvi vedere Quanto fortissimo Sia susse Ragazzi L'ho fatto per la gloria Ovviamente Come dire La vanagloria La famosa vanagloria Che ha ucciso Il reddiferro Da qui ovviamente In poi Ci andiamo Nel prossimo episodio Facciamo un bel livellino Guardate questo posto Ci sono 4 aragoste Che dormono 5 aragoste Voi immaginatevi Un DLC Dove al posto Di queste aragoste Che già sono il male Ci saranno Quei disgustosi Ippopotami Che si sono visti Nel DLC Quale guerriero Passa attraverso Delle aragoste Sapendo che questo drop Sarà inutile Per la vanagloria Ne passa la pena ragazzi Assolutamente Ragni Ragni Stai tranquilla Perché questo Valoroso Guerriero Susse Sconfiggerai Il dragone Susse Prenderai la chiave E nella prossima puntata Faremo l'episodio Regola della maniglia Prima la mamma E poi la figlia Io farò finta Di non aver sentito Susse In questo momento I Susse In primavera Ragazzi Sono terribili Sono veramente Le creature Più Susse E ormi Del mondo E' normale Che Susse Dica questa cosa Perché in primavera E' ancora più Susse Del solito Il nostro dragone Susse Ma questa assomiglia a Lula No? Colpita la testa Yes Testa Oh quanto gli farà male Una palla di fuoco Incredibile in the face Ora lo scopriamo Palla di fuoco Incredibile in testa Non gli ha affatto Assolutamente Non è balza la pena Ma le da vita Testa Nice Oh non ti baccare Come Achille Ti prego Ok Smarag Guarda I nomi sono figli Sester Guarda Dai fai una litata Di Susse Vi giuro Su Susse Che non mi ricordavo Minimamente Che facesse una cosa del genere Mi ha sparato Un'onda energetica Perché il narcista E' un drago magico Ecco Fantastico Molto bene Demico potente A quanto qua Molto molto bene Eccolo qua Questo poveretto Il prossimo episodio Mi sa che faremo così Dai Renala e Ranni In caso poi le cose extra Le esploriamo nell'episodio successivo Vabbè Il prossimo episodio ragazzi Sarà bello Del Susse Sarà carichissimo Il prossimo episodio Penso sarà l'episodio In cui vorrà commentare Più cose incredibili Perché abbiamo Renala E Ranni Nello stesso episodio Ragazzi miei Preparatevi Perché subirete L'ira di un Susse Orni Ma talmente orni Che mamma mia Quindi ragazzi Che il Godo sia con voi Vi benedico con il Godo Altro che grazia Con il Godo vero Quindi ragazzi Vediamo nel prossimo episodio Che il Godo sia con voi